E' stato sorpreso dalle guardie del WWF del nucleo provinciale nelle campagne di San Cataldo mentre era impegnato in una battuta di caccia al coniglio con diversi cani al seguito. Sottoposto ai rituali controlli di polizia amministrativa con esito negativo, le guardie WWF con qualifica di pubblici ufficiali hanno subito dopo accertato che il cacciatore utilizzava un fucile semi-automatico calibro 12 con il caricatore in grado di contenere più di due cartucce, quindi in violazione della legge 157 del 1992 sulla caccia che vieta i fucili a più di tre colpi. Il cacciatore sencataldese è stato dunque denunciato alla procura di Caltanissetta per il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati. Inoltre, grazie all'intervento immediato dei carabinieri, è stato sequestrato il fucile a quale corpo del reato. Si è aperta così la stagione di caccia in Sicilia, come stabilito dal calendario venatorio emanato dall'assessore regionale Edi Bandiera, fortemente criticata dal WWF perché è troppo permissiva e dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per l'estensione eccessiva di specie e periodi di caccia. Numerose le segnalazioni nella prima domenica di caccia per gli spari vicino le case rurali e l'invadenza dei cacciatori che effettuano battute nei terreni privati a poca distanza da case e luoghi abitati. Il WWF invita i cittadini a segnalare casi di bracconaggio e tutti i crimini di natura che minacciano e deturpano il territorio e la sua fauna condattando il servizio di vigilanza tramite l'apposita pagina Facebook WWF in Sicilia oppure via e-mail guardie www.siciliacchiocciolawwf.it